Il melograno, fonte di ispirazione per il mondo medico, contiene quasi tutte le vitamine e i minerali di cui l'uomo ha bisogno per i suoi processi metabolici. Questo frutto, utilizzato per scopi medicinali migliaia di anni fa, fa bene a molti problemi metabolici fornendo incredibili benefici al nostro corpo se consumato nella giusta quantità e tempo. Quali sono i benefici e i danni del consumo di melograno? Quando e quanto dovrebbe essere consumato? Esaminiamolo insieme. Puoi iscriverti gratuitamente al nostro canale prima di passare ai vantaggi. Siamo qui con un nuovo video informativo ogni giorno. Quali sono i benefici del consumo di melograno? Il forte effetto antibatterico e antivirale del melograno elimina tutti i microrganismi nocivi nel tessuto intestinale. Questo frutto contiene pectina, che è una specie di fibra. Pectina nutre i batteri benefici presenti nell'intestino. Inoltre, il melograno contiene fibre solubili e insolubili, estremamente importanti per la digestione. Le fibre solubili attirano l'acqua nel tessuto intestinale, facilitando la circolazione del cibo nel tratto digestivo. D'altra parte, questo frutto ha un altissimo contenuto di antiossidanti. Gli antiossidanti rendono il corpo più resistente alle malattie e formano un forte scudo di difesa contro le malattie causate da radicali liberi, batteri e virus. La quercetina, che è un flavonoide, ha attività molto positive nel ridurre l'infiammazione e rafforzare il sistema immunitario. La vitamina C nel melograno rafforza il sistema immunitario e assicura che le malattie basate sui virus vengano eliminate rapidamente. Grazie alle proprietà attive del melograno, aiuta indirettamente a proteggere dalle malattie cardiovascolari grazie agli antiossidanti. Questo frutto, che aumenta la qualità del flusso sanguigno, assume responsabilità molto importanti per la protezione del corretto flusso sanguigno. Crea un forte meccanismo di difesa contro le malattie cardiovascolari. Con il suo contributo al sistema circolatorio, aiuta a prevenire l'occlusione vascolare regolando la quantità di lipidi nel sangue. La giusta quantità di consumo di melograno bilancia la pressione sanguigna. Melograno per funzioni cerebrali più sane. Il consumo regolare di melograno migliora la memoria e le funzioni cognitive. Mostra attività positive soprattutto nel trattamento di problemi cognitivi come dimenticanze, distrazioni, stress e problemi di concentrazione dovuti a carenza vitaminica. Il melograno rafforza le attività scientifiche proteggendo la struttura cellulare dalle neurotossine che si formano tra le cellule cerebrali. Inoltre, il melograno garantisce la continuazione del flusso sanguigno sano nel corpo. Elimina i problemi di anemia con il ferro in esso contenuto. Pertanto, elimina i sintomi dell'anemia come affaticamento, stanchezza cronica e bassa energia. Melograno per ossa più sane. Questo frutto, che contiene molta vitamina K e manganese, è molto importante per la salute delle nostre ossa. I fenoli nelle parti bianche del corpo aiutano il corpo a utilizzare il calcio in modo molto più efficiente e di alta qualità. Inoltre, il potassio che contiene è molto importante per la struttura muscolare. Controlla le contrazioni muscolari e migliora il tessuto muscolare. Dà riposo ai muscoli e riduce la tensione. Quindi, c'è qualche danno nel melograno? Innanzitutto, sebbene il melograno sia sano, è fondamentalmente un frutto e ha un certo tasso di zucchero. Per questo motivo, i diabetici dovrebbero fare attenzione quando consumano il melograno. Inoltre, a causa della fibra densa in esso contenuta, se consumata in eccesso in un breve periodo di tempo, provoca problemi digestivi occupando troppo lo stomaco e il canale intestinale. È molto importante impostare la quantità corretta. Soprattutto il succo di melograno può causare problemi di gas in alcuni casi. L'eccessivo consumo di succo di melograno provoca gonfiore nei bambini e negli adulti. Tuttavia, sebbene non sia ricco di calorie volumetriche rispetto ad altri frutti, può rendere difficile il controllo del peso se consumato inconsapevolmente ed eccessivamente. D'altra parte, la buccia di melograno è una delle sostanze che oggi il mondo della medicina utilizza attivamente nella produzione di medicinali. Per questo motivo, quando il melograno viene consumato, può interagire con i farmaci utilizzati. Consulta il tuo medico prima di consumare il melograno, soprattutto se stai assumendo farmaci regolari. Quindi quanto dovrebbe essere consumato il melograno? Gli esperti consigliano di consumare mezzo melograno al giorno, 3 a 4 giorni alla settimana, soprattutto durante la stagione. L'aggiunta di melograno alle insalate, ai pasti o allo yogurt aumenterà il tuo livello di salute. Alla luce di queste informazioni, puoi aggiungere il melograno al tuo programma nutrizionale e beneficiare dei suoi benefici a lungo termine. Se ti piace il nostro video, non dimenticare di mettere mi piace e di iscriverti al nostro canale se non l'hai ancora fatto. Stai bene, tieniti informato.